Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questa ultima parte del DLC per Pokémon Violetto, il tesoro dell'Area Zero. Siamo giunti all'ultimissima parte, quest'ultima porzione di avventure ci porterà a scoprire l'identità di un certo Pokémon Pesca. Per poter iniziare però quest'ultima parte bisogna prima scaricare il dono segreto. Il dono segreto conterrà una bacca pesca speciale che ci permetterà di interagire con il peluche che troviamo a Nordivia, a Verde Giada. Andiamo quindi a Nordivia per interagire con questo peluche e una volta interagito con questo peluche riceveremo una chiamata di Pepe che ci dirà di andare a casa nostra perché lui sta lì e vuole vederci, dato che è un po' che non ci sentiamo. Ehi Link, sono io, Pepe. Mi è giunta voce delle tue grandi avventure. Un viaggio di studio, che storia. Com'è andata? È stato bellissimo. Se hai un po' di tempo pensavo che potrei... Ah, se lo settimo ovviamente. Ma magari potrei fare un salto a casa tua, che ne dici? Perché? Casa mia? Oh! Che devi fare a casa mia? E una volta finita la chiamata vedremo che questo peluche è scomparso e inizierà l'ultima avventura del DLC, il tesoro dell'Area Zero. Appendice. Arriviamo a casa quindi, troviamo tutti quanti i nostri amici dell'Accademia e dopo aver pasteggiato in abbondanza, la nostra madre ci darà una lettera che proviene niente meno che da Riven. Ci dice che dopo gli eventi del Club League è tornato a casa sua, non va più a scuola e vuole vederci e ci dà biglietti sia per noi che per i nostri amici. Ovviamente anche i tuoi amici di Palda sono i benvenuti. Nella busta troverai biglietti per tutti voi. Come fa a sapere che siamo in quattro in totale? Ma alla fine ci incontriamo con Riven, facciamo le presentazioni del caso e ci accorgiamo però che il Rubra si comporta in modo strano. Kiki. Riki. Ah, è veramente un gallo. Kiki? Ma questa host è così strana? Anche noi vogliono e con la testa. Sembra quasi che sia posseduta da un qualche spirito, non meglio identificato ovviamente. E ad ogni modo, dopo che tutto quanto si sarà calmato, decidiamo di passare la notte tutti quanti insieme al centro culturale. E mentre facciamo una caccia al tesoro al telecomando per cercare di cambiare canale al televisore, Nemi scompare. Non era neanche nella stanza in fondo. Cosa? Oh oh. Sto provando a chiamarla ma non risponde. Come non risponde? E non c'è neanche la suoneria. Non so voi ma a me la cosa non torna. In effetti. Non mi intendo di smartphone ma questo vuol dire che Nemi è... Non è qui dentro. Che Nemi non è, non è qui dentro. A quel punto io e Ribbon ci lanciamo all'inseguimento ma veniamo bloccati da due persone che sembrano avere lo stesso problema che aveva Rubra. E una volta sconfitti questi loschi individui andiamo a cercare Nemi ma ci imbattiamo nei nonni di Ribbon che a quanto pare sono anche loro in preda a qualche spirito maligno. Una volta sconfitti anche i nonni perché ovviamente bisogna lottare se no non c'è molto da fare. Riceviamo una chiamata di Pepe che sembra piuttosto impanicato. Sta succedendo qualcosa. Ci fiondiamo a valle e in realtà non è successo niente. È solo Penny che ha le visioni. Le sembrava di aver visto un mostro ma in realtà non è successo niente. E guarda caso invece si ha visto un mostro. Guardate lassù. È quello che avevo visto io. È un drone? Non direi. È un Pokémon? Cos'è? Un mochi? È vagamente dolce. Buono. Ah è meglio non mangiarli! Ma che? Ah ah! Tutto bene voi due? Che che? Che che che? Ma Penny aveva ragione. Infatti c'è questa palletta viola che fluttua e che lancia dei mochi alle persone per farli mangiare e farle cadere preda del suo controllo. Ovviamente colpisce anche i nostri amici Penny e Pepe. Dobbiamo lottare contro di loro in una lotta piuttosto facile che abbiamo già fatto. Insomma sappiamo chi stiamo affrontando. Sconfitti anche loro questa piccola pesca cerca di scappare come se nulla fosse la inseguiamo e arriviamo al parco dei beni amici dove incontriamo anche Nemi. Quella è Nemi è sana e salva. Meno male. Però mi sa che dobbiamo affrontare anche lei cosa ovvia. Eccola là. Ha mangiato anche tu il mochi eh? Ci hai mangiato il mochi. Sfida chi 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 chi? Mi sa che la coscienza di Nemi è più forte di qualsiasi maledizione. Oddio. Peccia Run! Va a finire che sto Pokémon in realtà è buono e vuole solo divertirsi. Se ha Nemi sotto il suo controllo non ho speranza di batterlo. Allora Nemi ancora una volta ci incontriamo. Secondo me Nemi è come Vegeta che non cade sotto il controllo di Babidi. In realtà si fa solo aumentare la potenza nonostante abbia il marchio sopra la fronte. Oh no pensavo di parlare col Pokémon invece è Nemi. Ok spediamoci allora dai. E lei non c'era Laura Viola quindi probabilmente è comod... Ah no eccola peccato. Voi pensavo facesse come Magi in Vegeta. Vabbè. Ecco Agrippone che poi contro un Pokémon roccia è tutto quanto... Fortuna. Ah che gran... Chi 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 chi. Che gran cosa. Culo? Per come Sogrifon davanti contro il Pokémon roccia. Vedi allora tutto riporta. Terra a buio? Perfetto allora. Colpo basso si prende ma ben male. Ah certo. Va in terra a buio e poi mi fa la carineria. Geniale. Mamma mia. Meta vita. Magari ritenta eh. Sarai più fortunata. Sì fai un bel linkino mia Oscarada e ci vediamo. Credo mai più a questo punto. Ancora una volta stessi Pokémon già visti e rivisti. Andiamo avanti. Lotta contro Pecherant. Chiuso è carino. E' quando si apre che non va bene. Pecherant. Non c'è più nessuno da controllare. Vuoi aspirare il misterioso Pokémon? Sì. Pecherant. Quindi Pecherant si chiama. Ehi ciao. Eccolo si è arrabbiato Oggerpon. In questo caso ho mandato in campo Oggerpon per vedere l'interazione unica che ha con il Pokémon Pecherant. Perché Oggerpon essendo un po' il protagonista del primo DLC ha comunque diverse interazioni con Ribbon e con anche quindi questa piccola pesca. E' un Pokémon carino quando è chiuso e il suo tipo è veleno spettro. E questo molto probabilmente è un richiamo al fatto che la pesca al suo interno ha un seme che è molto amaro ed è velenoso se assunto in grandi quantità. Ad ogni modo la lotta contro Pecherant è una lotta al boss. Ha picchiato duro ma solo perché aveva più serie attacco speciale grazie a Congiura. Per il resto non è stato granché devo ammettere. Pensavo meglio. Se solo ci fosse una Pokéball viola. E c'è. Ma mi conviene... No. Io uso la Master Ball mica lo scemo. Se c'è una Pokéball carina magari. Non la Garable. La Love Ball. Ma sì dai. Oppure la Dream Ball. La Dream Ball ci sta bene la Dream Ball. Cioè non la userai mai quindi tanto vale usarla su di lui. Sulla pesca. Lei. Lui. Non lo so. Purtroppo annunciare male i pronomi oggi è una condanna a morte. Veleno spettro. Pokémon dominio. Ha espanso il suo dominio quindi. Nel guscio a forma di pesca conserva un potente veleno. L'ho detto prima perché. Con cui prepara dei mochi tossici. Che offre a persone... Ma è un bastardo. Ma è cattivissimo. Perché lo fai? Eccolo qua. L'ultimo dei... Dei Pokémon. Però una volta che tutto quanto si è risolto. Baci e abbracci. Risate di fine episodio. E si conclude così il DLC in toto. Cattura di Pecherant e tanti cari saluti. Mi sa che le avventure in quel di Paldea si sono concluse. E ora non ci resta che aspettare e vedere cosa tirerà fuori dal cilindro Game Freak. Mi sa che le avventure in quel di Paldea si sono concluse.